saluto a tutti quanti ciao guys, selamat datang kembali di Jelajah Italia Channel bersama dengan Brochan dan Tekla oke, episode kali ini yaitu kita akan berkeliling di zona-zona pantai berhubung dengan musim panas, air restart ya, summer jadi kita langsung aja menuju ke pantai selamat datang ke pantai selamat datang ke pantai selamat datang ke pantai kenapa tidak pergi ke pantai? karena... karena ada banyak orang yang di luar eh? karena? karena ada banyak orang yang di luar ah, kamu berguna? no, tapi... karena... karena... karena aku berguna karena aku berguna oke oke hai elaran puoi makan всё?... no.. puoi makan.. wet ke launching 7? oke okay tua look yaر standing sabe oke si puoi makan now Tu sai, hai sempre fame Io sono un piccione Cosa sei amore? Non ho schiccato il bacio Vuole dire fortunato Cosa dice male? Cosa dice il ciò? Ma sono due Ah, ma è l'allocchio! Ascii, ho preso un pare di sangue Tu è? bellissime bene dove siamo? siamo a Iason in piazza Marina piazza Marina andiamo è l'aurora sa dove la strada fa l'abrettivi dai mostraci la strada andiamo a Piazza Aurora adesso andiamo a mangiare cosa vuoi da mangiare? un club un club sandwich sarebbe un club sandwich dove è il posto? non lo so andiamo a quello trovare troviamo un posto il migliore va bene? facciamo sapere i netizen a casa che c'è un posto buono tu conosci questa zona? si dai più o meno vieni spesso? si con i miei amici vengo in Corriera però vado da un'altra parte in piazza Mazzini in piazza Aurora e cosa fate qui? con i miei amici? eh andiamo in spiaggia prendiamo il sole andiamo a casa di qualcuno in piscina ok ma la malessia, hamburger, pizza, pizza margarita perché non l'hai mangiato? amore ha mangiato mio hamburger perché non hai finito tutto il questo? chi l'ha ordinato, tu vero? sì, l'ha ordinato, ma non è che mi piace tutto e perché l'ha ordinato? io ce ne sono dei migliori, signor e beh, non puoi scherzare col cibo cosa ne sapete? dovresti sapere, tanto club sandwich è sempre club sandwich ecco, allora, visto che non hai mangiato tutto, stasera paghi tu? eccoci qua, ecco il colpevole, ecco il colpevole, eccolo qua, l'aurora dai, ci salutiamo tutti quanti chi? eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua ok, teman-teman, jadi berakhir sudah edisi kita jalan-jalan sore di pantai Yesolo bersama keluarga, walaupun ada yang kurang dengan anggota keluarga kita, tapi tetap ceria jalan-jalan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan comment di bawah dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dan sampai jumpa di Italia sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya alla prossima, ciao 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 Grazie a tutti